Moto Argento è l'unico showroom in Italia dedicato alla vendita e all'assistenza delle hypermoto nuove o usate. Un solo nome Giacomo Agostini, la moto non ha bisogno di presentazioni ed è seminuova su appena mille chilometri a parlare di questa moto mi brillano davvero gli occhi perché sono di parte e devo dire questa è una BMW S1000RR con un pacchetto M-Line quindi cerchi in carbonio, sella e scarico scproject chiaramente questa parte non fa parte della M-Line però devo dire che è di pregio. Questa rappresenta il concetto di hypermoto. E invece per gli amanti delle moto da pista e allo stesso tempo da collezione rarissima r1 versione top rack. Proseguiamo gli ultimi arrivi di questa settimana con questa hypermoto Kawasaki ZX10R 2019 con 15.000 chilometri con questo bellissimo terminale della MIV. Proseguiamo con la linea dei Mille Honda CBR 1000RR HRC. Questa è stata riverniciata con terminale aftermarket e portatarga corto. Tanto amata ed invidiata MV Agusta Dragster 800RR completamente originale con poco più di 6.000 chilometri del 2021. In Italia non esiste showroom migliore di Moto Argento e quello alle mie spalle ne è l'esempio LabBank. Quindi vi lascio tutti i contatti qui sotto in descrizione. Moto Argento amore, passione, dedizione, sempre. Io sono Andrea e vi aspetto in showroom. Ciao! Grazie a tutti